Oggi preparo pasta con pomodorini, tonne e olive. In una padella aderente mettiamo un filo d'olio, aggiungiamo una cipolla tritata, facciamola biondire un po' e aggiungiamo anche i pomodorini. Mettete anche qualche olivetta. Salate e fate cuocere per circa 15 minuti. Dopodiché aggiungete una scatola di tonno in scatola. Nel frattempo avevo messo una pentola d'acqua sul fuoco. Appena bollirà buttate la pasta e salate. Se vi piace questa ricetta commentate anche con una faccina, grazie. Poi una volta che la pasta sarà cotta aggiungete un po' di acqua di scolata un po' al dente e unitela a tutti gli altri ingredienti. Adesso mantecate e infine aggiungete anche un pochino di prezzemolo tritato. Questo tipo di pasta con questo condimento è molto buona sia calda che fredda. Ora assaggiamo. Spero vi sia piaciuta la ricetta e vi ringrazio. Buona visione a tutti.